Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, con grandissima felicità, non ve lo nascondo, vi presento questo artbook, l'arte di Arkham Horror, in cui sono racchiuse praticamente tutte, o la maggior parte, comunque le più belle, il 99% delle tavole del gioco di Arkham Horror, gioco di carte che io adoro veramente tantissimo, perché a parte essere nell'ambientazione per me del più grande scrittore horror di tutti i tempi, Lovecraft, ma anche in un'ambientazione che alla fin fine ha tirato fuori un sacco, una miriade di prodotti, come Arkham Horror, il gioco di carte, oppure anche le case della follia, uno dei miei board game interattivi preferiti, o, sempre in ambientazione di Lovecraft, il richiamo di Cthulhu e tantissimi altri GDR cartacei che hanno fatto appunto la storia di questa città inventata e pensata da Lovecraft, dove praticamente ne succedono di cotte e di crude. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. L'arte di Arkham Horror, in questo manuale dove dentro trovate, ora ve lo faccio vedere da vicino nel corso del video, delle tavole bellissime, è praticamente l'artbook di tutto quello che trovate, ora questa è la vecchia edizione, ne stanno facendo una nuova quest'anno, che poi vi porterò direttamente sul canale, è praticamente l'artbook di tutti i contenuti, di tutte le carte che sono nel gioco di base Arkham Horror, questo qui vedete che è la scatola base del gioco di carte per due giocatori, ed è un gioco veramente molto spettacolare, perché è un gioco cooperativo, ed è un gioco molto di narrazione, perché fondamentalmente sulle carte non è un gioco di carte, di battaglie, di scontri, come potrebbe essere Magic, o le vecchie e bellissime Mutant Chronicles, ma un gioco cooperativo dove tutti insieme dovete portare avanti una storia, e l'hanno fatta anche in versione Marvel, sempre della Fantasy Flight, l'hanno fatta in versione Il Signore degli Anelli, che vi ho portato recentemente la nuova scatola qui dietro da quattro giocatori, e tantissime altre edizioni in questo gioco cooperativo, dove insieme dobbiamo seguire una o più strade per arrivare a fine del pacchetto avventura, con moduli, tantissimi moduli di espansione, ed è bello perché sulle carte c'è sempre scritto del testo, vi addentrate all'interno dell'università, della Miskatonic, quindi c'è una parte anche da leggere, che vi fa come un po' sentire se ci fosse un Game Master a narrarvi un'avventura, e voi siete un gruppo di giocatori che cooperando dovete riuscire ad arrivare a fine appunto di questo capitolo e dell'avventura a livello di campagna che viene creata dai pacchetti aggiuntivi. E in questo, l'arte di Arkham Horror, trovate delle tavole che sono veramente stupende, e ora vi faccio vedere, e c'è veramente tantissimo materiale, ma poi è bello perché è anche uno spunto di conoscenza per la città di Arkham, che vi ricordo essere una città americana, uscita dalla fantasia di Lovecraft, e poi riutilizzata in tante altre opere, perché se andiamo a vedere Arkham Asylum, Arkham City di Batman, si vanno un po' a rifare a questa città, fantomatica città, infestata da demoni, mostri e creature extraplanari, creata appunto dal grandissimo Lovecraft. E' bello questo artbook perché vi fa vedere non soltanto tutte le migliori immagini, tutta la migliore arte del gioco di carte di Arkham Horror, ma all'interno ci trovate direttamente anche delle descrizioni dei posti, quindi fondamentalmente è un manuale che io mi sento di consigliare anche e soprattutto a chi gioca di ruolo. Giocando di ruolo, non soltanto il gioco di carte di Arkham Horror, ma anche giocando di ruolo al rechiamo di Cthulhu, è un manuale che serve perché magari ai vostri amici, ai vostri giocatori che sono al tavolo, al gruppo che dovete un po' muovere a giro per Arkham, magari li fate presente, siamo nel quartiere alto, siamo nel quartiere dei moli, siamo dentro l'università della Miskatonich, e quale miglior modo di aprire la pagina e fargli vedere delle bellissime immagini, piuttosto che andarla a cercare su internet e cose del genere, che sarebbe oltremodo macchinoso. Ed è veramente uno spettacolo, è un artbook secondo me che vale oro, o anche soltanto a livello di collezione, secondo me è stupendo. Ci sono dei mini quadri all'interno, non sono immagini, ci sono dei disegnatori che hanno lavorato per Asmode e Fantasy Flight, che dentro c'è veramente roba assurda, ed è qualcosa che per me non vi deve assolutamente mancare. Se lo volete ordinare, anche il gioco di carte che verrà ristampato a breve, nella nuova edizione, come hanno fatto quella del Signore degli Anelli, fanno anche quella di Arkham Horror, direttamente dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Semola, sempre primo link in descrizione, in sovraimpressione, al miglior prezzo sul mercato. Se il prodotto lo trovate, ma è finito, oppure proprio lo cercate e nel catalogo non c'è, scrivete al supporto, a Corrado, al proprietario della Gioco Libreria Semola, che arrivate dal canale di Coridan. Lui farà il possibile per farvelo avere, anche se non ce l'ha in catalogo, al miglior prezzo sul mercato, e soprattutto usate sempre il codice discount, Coridan7, per avere uno sconto del 7%, e se fate un acquisto, magari comprate più prodotti anche questo, visto che ci siete, ve lo consiglio, così l'apprezzerete anche di più, e superate la spesa complessiva di 79 euro, spese postali gratuite in 48 ore in tutta Europa, ordinate, dopo due giorni ce l'avete a casa. Quindi dateci veramente un occhio, e ragazzi, per me, veramente, è un pezzo che non deve assolutamente mancarvi, perché è uno spettacolo assurdo. Ciao ragazzi, alla prossima!